Giuliana Esposito responsabile di Stecca domani è in programma un importante evento si parlerà di finanziamenti e opportunità per rilanciare il futuro turistico e culturale della costa del Vesuvio. Come nasce questa iniziativa? Abbiamo immaginato di organizzare questo momento di confronto assieme al Consorzio Costa del Vesuvio nonostante il caldo e nonostante il momento di incertezza che stiamo ancora vivendo per lanciare un messaggio di fiducia e per cominciare ad immaginare uno scenario. Lo facciamo proponendo appunto un momento di confronto questa volta all'aperto saremo all'aperto con il magnifico sfondo del porto di Torre del Greco e l'idea è quella di presentare strumenti risorse ed opportunità per creare nuovi progetti impenditoriali appunto in ambito culturale oppure a favore di giovani e a favore dell'economia sociale. Quali sono secondo lei le maggiori criticità al momento e gli obiettivi che vi proponete ovviamente in questo ambito? L'idea è quella di partire appunto da un'analisi dei bisogni del territorio e su questo il Consorzio Costa del Vesuvio ci dà una chiave di lettura rispetto a quelle che sono le esigenze appunto e gli andamenti del mercato ed immaginare nuovi servizi e nuove opportunità in questo campo. Quello di domani sarà comunque un dibattito interattivo, in conclusione è previsto anche un momento per le domande e gli interrogativi dei partecipanti? Assolutamente sì, Stecca si pone innanzitutto come facilitatore di questi processi quindi dentro Stecca vivono professionisti, aziende, competenze nonché aspiranti imprenditori, nuove idee impenditoriali per cui l'idea è come al solito quella di proporre degli spunti ma soprattutto dare l'occasione per avere delle risposte e costruire delle iniziative concrete. Questo rilancio da che cosa deve partire? Noi in pieno lockdown, in piena pandemia abbiamo lavorato per rafforzare la rete delle imprese, abbiamo lavorato per rilanciare le proposte di sviluppo di questo territorio e quindi per andare a creare una proposta per così dire completa da sottoporre poi alle istituzioni una volta che appunto sarà finita questa maledetta crisi. Ecco, l'incontro di domani è un tassello di quella strategia. Noi domani facciamo secondo me una cosa piuttosto importante, cambiamo la procedura normale di lavoro, riusciamo a far venire in vitalia da noi, quindi non sono gli imprenditori che devono andare a proporre per così dire i loro progetti e quindi doversi ovviamente sobbarcare una serie di impegni per poter chiedere di fare delle cose ma è in vitalia che viene da noi, che grazie al nostro lavoro viene ad ascoltare le nostre proposte, viene a darci dei consigli per cui gli imprenditori che hanno delle proposte, che hanno delle idee, che vogliono fare delle cose incontreranno degli esperti che potranno appunto indirizzarli, che potranno aiutarli e che potranno poi seguirli nel processo poi delle proposte da sottoporre al finanziamento. Avete già delle proposte appunto da sottoporre ai responsabili di in vitalia? Il Consorzio ritiene che vada creata una condizione per così dire di contesto più favorevole al turismo quindi immaginiamo di creare un cartellone unico degli eventi che tenga insieme le straordinarie cose che si fanno qui penso agli spettacoli dentro gli scavi di Pompei, penso al Mozart Festival, penso al Festival delle Ville Vesuviane ma potrei citare tante altre cose. Allora ecco, secondo noi tutte queste cose vanno messe a sistema vanno messe dentro un unico cartellone che poi vada programmato per tempo in modo tale che le imprese possano appunto partecipando alle fiere internazionali di settore vendere il territorio, quindi le loro strutture, quindi l'accoggenza alberghiera ed extraalberghiera insieme agli eventi culturali. È importante fare rete e creare delle sinergie? Costa del Vesuvio ha delle eccellenze meravigliose ma naturalmente non è ancora il distretto turistico della penisola sorrentina piuttosto che dell'isola d'Ischia che hanno ovviamente una tradizione consolidata differente dalla nostra. Perché noi possiamo diventare distretto turistico a livello internazionale bisogna che appunto la rete delle imprese si presenti in quanto tale e quindi riesca a dare il senso di un'offerta di accoglienza a 360 gradi. Noi dobbiamo essere capaci di metterle insieme e appunto in rete proporle. Se saremo capaci di fare bene questa cosa probabilmente potremo cogliere dei frutti in futuro.